Amici del Bianconero.com, buonasera. Hanno parlato Giorgio Chiellini e Massimiliano Allegri in conferenza stampa, una conferenza stampa che è durata insomma più del previsto. Nessuna notizia sul futuro di Chiellini, anzi addirittura in retroscena pensava addirittura di smettere l'anno scorso. Poi il percorso europeo gli ha fatto cambiare idee, soprattutto il gol annullato da Arnautovic con il VAR. Insomma una sliding door che ha portato Giorgio Chiellini ancora a giocare l'ennesima finale. Battuta anche sui trofei, 20 con la Juve, ha aggiunto Chiellini 20 più 1 perché il riferimento è chiaramente allo scudetto annullato per i fatti di Calciopoli e assegnato proprio all'Inter. Ha parlato Allegri che ci ha detto di tre titolari, oltre a Perino giocheranno Chiellini che era in conferenza e poi Paolo Di Bala. Non si è esposto su Miretti, la sensazione è che si vada verso un 4-2-3-1 con Bonucci in panchina e quindi delitto al fianco del capitano. Sulla destra Danilo e questo l'abbiamo intercettato anche dalla battuta di Allegri sulla possibilità di difesa a tre. Ha spiegato Allegri che sostanzialmente con i difensori che scenderanno in campo potrà anche permettersi di giocare a tre. L'indicazione è sembrata abbastanza chiara. Sulla sinistra più Alexandro Di Pellegrini. Sui centrocampisti, insomma, non abbiamo ancora grossi punti di riferimento, però Zakaria e Rabiot saranno certamente della partita. Con Di Bala ci aspettiamo anche Morata. Sulla destra vedremo, insomma, se sarà il turno di Juan Quadrado, sembra di sì, e poi centravanti Dusan Blaovic.